Con Antonino Galletti che è Presidente dell'Ordine degli Avvocati, gli chiediamo ovviamente come Avvocato fa parte della categoria più in prima linea contro la violenza sulle donne? Sì, gli Avvocati costituiscono dei presidi di legalità sul territorio e quindi sono i primi soggetti ai quali si rivolgono le vittime di questi tipi di violenze odiose. Quindi nella funzione sociale dell'Avvocatura rientra anche quella di assistere e di dare il massimo supporto possibile alle donne che denunciano questi fatti criminosi. La serata di oggi è una testimonianza di questo, siamo presenti e vogliamo essere concretamente a disposizione delle vittime raccogliendo anche i fondi con questa bella iniziativa culinaria. Grazie a tutti!